Ciao io sono Ilenia e vengo da Firenze. Come sono buddista diciamo io ho un maestro presidente Ikeda e presidente dell'associazione buddista. Io sono una chef e al momento sono anche un'imprenditrice. Sto prendendo una società insieme a degli amici dove vendiamo estratto di carota nera. Adesso la troviamo sulla tavola al mercato arancione perché gli olandesi hanno fatto un innestro fra la carota nera quella gialla e quella bianca in onore di guia al modo aranje. La utilizzo soprattutto però con il pane con la pasta fresca e sono di uso comune. Questo estratto di carota nera aiuta la digeribilità quindi quando tu vai a creare un pane tu hai un prodotto che ti aiuta a digerire non solo di più il pane ma anche diciamo tutte le altre cose che che ci mangi insieme. Un sacco di persone non mangiavano il pane da anni perché stavano malissimo io ho iniziato a regalargli delle pagnottine delle cose adesso si comprano il filone di pane tutte le settimane e sono felici stanno bene. Allora io ho iniziato a venire a Gremurize da dicembre 2016 la cosa mi piace più di tutto è il Gremurize che tutte le volte ci trovo a bigliardino. Il piatto proposto oggi è un maritozzo salato con l'aggiunta di estratto di carota viola come si vede e mortadella e pesto di rucola e pistacchi di bronte. Ringrazio tutto lo staff di Gremurize che mi ha dato questa opportunità di parlare dei miei progetti delle mie passioni e vi saluto ci vediamo presto.